Buongiorno e benvenuti al quotidiano appuntamento con Linea Diretta, oggi parliamo di una delle voci più importanti della nostra economia regionale, il turismo, lo facciamo con l'assessore regionale al turismo Finozzi, buongiorno assessore e benvenuto, noi abbiamo intitolato la puntata l'industria del turismo, perché in effetti si tratta di un comparto importantissimo per la nostra economia, quali sono i numeri del turismo in Veneto? In Veneto sono numeri molto importanti perché ricordo siamo la prima regione in Italia con quasi 16 milioni di arrivi, significa che 16 milioni di persone scelgono il Veneto come loro meta per il turismo, parliamo di 64 milioni di presenze, quindi notti trascorse sul nostro territorio, stiamo parlando di un'economia pari a un valore di circa 11 miliardi di euro, quindi siamo attorno al 10% del PIL del Veneto. Naturalmente il Veneto ha un'offerta turistica illimitata perché può offrire le città d'arte, può offrire le spiagge, può offrire i laghi, la montagna e chiaramente tutto questo pacchetto di offerte, chiamiamolo così, deve fare sistema per funzionare meglio, soprattutto quando bisogna aggredire nuovi mercati come quello dei paesi emergenti, parliamo della Russia, parliamo della Cina. Infatti proprio la varietà e la vastità dei nostri prodotti turistici che fanno del Veneto una delle regioni più importanti d'Europa, siamo la sesta destinazione in Europa e proprio per questa varietà ci possiamo offrire a qualsiasi turista che ha bisogno di risposte per quanto riguarda le proprie abitudini turistiche, appunto con il mare, la montagna, le termi, il lago, le città d'arte e anche nuovi territori che si offrono per quanto riguarda il turismo. Soprattutto questi turisti che arrivano da lontano hanno bisogno di conoscere soprattutto la cultura del nostro territorio, quelle che sono le nostre abitudini, la nostra storia, le nostre tradizioni e quindi c'è un lavoro molto importante di promozione, soprattutto in quei paesi come Russia e Cina, per far capire innanzitutto dove siamo, perché diamo per scontato che tutti conoscono il Veneto o Venezia, invece a volte ci capita di scoprire che hanno difficoltà a capire dove è l'Italia, perché immaginate la Cina, un paese così importante. Quindi con puntuali azioni di promozione, sia per quanto riguarda le fiere, sia per quanto riguarda l'utilizzo delle tv e della stampa cinese e russa, noi andiamo a far conoscere questo territorio. C'è una novità importante che riguarda proprio la Russia e la Cina, perché c'era un problema di ingressi in Italia, un problema di visti? Lui ancora, nel senso che ogni mese registriamo un aumento di turisti russi e cinesi sul nostro territorio, ma uno dei collidi di bottiglia che bloccano maggiormente questi flussi sono proprio il rilascio di visti turistici. Le nostre abbasciate purtroppo sono lente nel riusciare a questi visti e quindi limitano la possibilità di questi turisti di venire a visitare la Cortea. C'è qualcuno che si stufa e rinuncia, dice o scegli un'altra destinazione dove ci sono meno problemi. Un'altra destinazione, appunto, in tantissime altre ambasciate sempre di paesi europei è molto più semplice e molto più veloce. Soprattutto in prossimità dell'Expo di Milano che partirà dalla metà del 2015 c'è un'occasione importantissima per fare arrivare sul nostro territorio tantissimi visitatori e quindi turisti che arrivano da quella parte del mondo. Noi ci proponiamo di essere la porta verso est per quanto riguarda l'Expo di Milano, però appunto il vincolo dei visti potrebbe essere un vincolo molto pesante e quindi con il commissario vicepresidente della comunità europea Antonio Tajani si sta studiando un sistema di rilascio dei visti molto interessante e molto innovativo dove è previsto che siano direttamente degli uffici strutturati negli aeroporti di destinazione l'occasione di dare dei visti a durata di 10-15 giorni a fini turistici. Questo darebbe la possibilità a tantissimi turisti di arrivare tranquillamente a Venezia e poi lì con poche formalità poter avere il rilascio del visto stesso. È un progetto europeo e sembra uso condizionale perché non ha ancora confermato che Venezia sarà uno degli aeroporti sperimentali, quindi un progetto sperimentale che vedrà sul nostro territorio l'opportunità di mettere in pratica questa nuova opportunità per il rilascio dei visti. Tra l'altro Venezia credo sia il terzo scalo italiano aeroportuale dopo Milano e Roma, per cui è uno degli aeroporti più importanti che abbiamo in Italia. Ce la giochiamo con Bergamo perché Bergamo è diventato un hub molto importante per quanto riguarda i voli low cost e quindi lì ci sono molti viaggiatori che utilizzano l'aeroporto di Bergamo, ma comunque siamo lì tra Bergamo e Venezia e sul terzo posto. Prima vi ho dato i numeri del turismo in Veneto, è bene ricordare che il turismo non sono solamente naturalmente i pernotamenti in albergo o in ristorante, c'è tutto un comparto che viaggia soprattutto con un indotto perché chi arriva in Veneto poi comunque fa shopping in Veneto, va a mangiare, soprattutto una promozione anche dei prodotti enogastronomici che poi magari possono essere cercati anche del paese d'origine una volta che si ritorna. Certo, è un indotto molto allargato, giustamente come diceva lei non sono solamente diretti operatori come i ristoratori e i albergatori, ma c'è l'industria dell'agroalimentare, l'agricoltura, il settore anche dell'artigianato artistico, noi ci troviamo in un territorio dove i nostri artigiani sanno creare veramente delle cose di eccezionale qualità. Quindi una possibilità di dare al territorio un'economia che rimane sul territorio perché questi sono artigiani, sono operatori, sono imprenditori che investono poi nella loro azienda ricavato delle loro attività. Quindi l'importanza di far crescere le presenze turistiche nel Veneto ha proprio questo scopo, di dare al territorio l'opportunità di rilanciare la propria economia, con un'economia molto salda, molto radicata sul territorio e anche magari andando a recuperare dei territori che magari fino a poco tempo fa non avevano alcun interesse nel mostrarsi da un punto di vista turistico. Allora entriamo dopo nel merito di questi territori che potrebbero essere rilanciati dal punto di vista turistico. C'è una nuova legge regionale sul turismo che è stata approvata l'anno scorso ed è entrata da poco in vigore. Che cosa prevede? Prevede delle riforme molto importanti, soprattutto l'obiettivo è quello di dare qualità all'operata turistica perché il nostro riferimento è il turista. Dobbiamo dare al turista tutte quelle condizioni perché sia soddisfatto della propria vacanza in Veneto e quindi ritorna e magari invita i propri amici, i propri familiari a venire a visitare il nostro territorio. Quindi attraverso il passaparola credo sia un'opportunità estremamente importante di aumentare i flussi turistici sul nostro territorio. Una legge di riforma che è stata creata anche con un meccanismo molto innovativo, siamo partiti dal basso, abbiamo coinvolto gli operatori, abbiamo coinvolto le amministrazioni locali. Piano piano è cresciuto, cresciuto, cresciuto. Si è realizzato questo disegno di legge che poi è diventata legge nel giugno scorso. Una delle riforme più importanti è quella di ridisegnare il territorio. Quella vecchia legge c'erano i sistemi turistici locali che erano sistemi molto piccoli, molto legati alle caratteristiche locali del territorio. E proprio in virtù del fatto che i nostri mercati stanno allargando sempre più ed essendo sempre più lontani, abbiamo delle difficoltà a far capire, a differenza tra Bibione e Caole, tra Caole e Cavallino, tra Iesolo e Sottomarina. Quindi siamo usciti dall'ambito locale e siamo andati verso... Prima si faceva poco sistema. Erano sistemi autoreferenziali che hanno comunque prodotto interessanti risultati, perché li vediamo dai numeri. Però nel momento in cui cambiano i mercati dobbiamo cambiare anche strategie, dobbiamo cambiare strumenti. Forse avremmo dovuto fare altrettanto col sistema manufatturiero. Quando è cambiato il mondo da un punto di vista economico e produttivo, noi l'abbiamo vissuta come una crisi, invece era una rivoluzione e stiamo ancora qua parlando di crisi, ma non abbiamo capito che invece dobbiamo cambiare completamente le regole del gioco. Quindi, come dicevo, uscendo dall'ambito territoriale siamo andati a proporre gli ambiti tematici. Il tema del mare, il tema della montagna, il tema delle terme, il tema delle città d'arte, il turismo culturale è tra i tematismi più gettonati. Ci sono milioni di persone che arrivano in Veneto per poter godere di quelle che sono le nostre bellezze da un punto di vista artistico, architettonico e anche paesaggistico. Quindi questi stemmi tematici, tra di loro, hanno una forza ben maggiore rispetto ai piccoli stemmi territoriali. Certo, io credo che abbiamo anche una cartina che possiamo vedere per dare un'idea ai nostri telespettatori di come è stata suddivisa la regione. Eccoci qui. Abbiamo ridisegnato il Veneto, proprio per capire quali sono le attitudini e le peculiarità di ogni territorio. Vediamo la parte alta, quella con il marruccino un po' più scuro, che è tutta la parte delle Dolomiti. Ricordo che le Dolomiti sono state riconosciute da poco tempo come patrimonio dell'umanità, quindi con marchio UNESCO. Questo ci permette di essere molto più interessanti da un punto di vista della promozione di quel territorio. Con noi ci sono ovviamente le province di Trento e Bolzano e la regione Friuli-Venezia-Giulia e con loro stiamo facendo ottimi lavori di promozione. Poi un po' più a sinistra, con il marruccino un po' più chiaro, sono il resto della montagna veneta, quindi la parte vicentina e veronese, che hanno caratteristiche molto interessanti da un punto di vista turistico, soprattutto sulla parte estiva. Abbiamo il violetto che rappresenta la parte del lago di Garda. Il lago di Garda è uno dei tenotismi più gettonato per quanto riguarda le presenze turistiche straniere. Ricordo che nel corso del 2013 abbiamo registrato quasi il 70% di presenze straniere, questo ci garantisce anche solo… Ma dove vengono i turisti che vanno al lago? Vanno a periodi, c'è il periodo dove c'è la maggior concentrazione di tedeschi, poi c'è la concentrazione degli olandesi… Abbiamo conosciuto anche diversi americani che conoscevano proprio i laghi, che è da Lombardia, ma anche il lago di Garda. Il mercato principale è quello tedesco, perché loro sono appassionatissimi delle vacanze che riguarda il lago, i loro laghi sono freddi, hanno come poche caratteristiche e bellezze ambientali nelle loro vicinanze, invece il Garda a due passi ha anche una città come Verona, con l'Arena, con un programma culturale molto ben… Giulietta e Romeo, che conoscono bene gli anglosassoni. …culturato e poi se andiamo ancora un po' più in là troviamo le colline veronesi che hanno caratteristiche di pesagistiche straordinarie. Allora torniamo alla cartina perché ci sono… Vediamo allora quella parte verde, che è la parte nuova diciamo da un punto di vista dell'offerta turistica del Veneto, è la Pietremontana del Veneto e i Colli Veneti. Come vedete c'è questo… questa fascia di territorio che parte appunto dal Garda, arriva ai confini con il Friuli, che hanno delle caratteristiche molto simili a quella che è l'offerta turistica delle più bella suonate realtà turistiche come la Toscana e l'Umbria da un punto di vista delle colline, dei passaggi, dei prodotti tipici. Non abbiamo nulla da invidiare con quei territori, ma ricordiamo che quando uno va in Toscana trova quel prodotto e nient'altro, trova sì il turismo rurale con i vini, con i formaggi, ma oltre a quello non c'è nulla. Mentre noi dobbiamo ricordare i turisti che in un'ora di strada si può raggiungere Venezia, un'ora di strada si raggiungono le terme, si raggiunge Cortina, quindi è un'offerta turistica molto ben strutturata per chi gode dell'offerta enogastronomica, dell'offerta che riguarda il paesaggio, lo sport, come il cicloturismo, le attività di non rewalking e tutte queste nuove offerte turistiche che riescono ad accattivare l'attenzione dei nostri turisti. È una realtà che fino ad oggi non aveva mai avuto grandi vocazioni turistiche che noi stiamo alimentando ormai da qualche anno perché possa nascere prima di tutto la cultura dell'accoglienza, che è molto importante perché quando un turista viene a visitare un territorio vuole essere accoccolato e quindi dobbiamo far capire alla nostra gente di questo territorio che il turismo è veramente un'ottima opportunità di sviluppo economico e dobbiamo fare conoscere ancora di più i nostri prodotti, abbiamo per quanto riguarda il vino ad esempio le due eccellenze a livello mondiale, Amarone e Prosecco, sono due vini, uno all'antipo di rispetto all'altro perché il Prosecco è un vino leggero, fresco, frizzante, giovane, contro un Amarone che sono quei vini molto importanti da pranzi e cene, insomma di un certo tipo, in mezzo tra questi due vini abbiamo di tutto e di più, abbiamo di vini straordinari che ogni anno riescono a portare a casa importanti risultati, dato che forse non tutti i Veneti conoscono, anche in questo caso il Veneto è la prima regione in Italia per la produzione di vino, siamo attorno ai 9 milioni di ettolitri di vino prodotto e quasi la metà sono vini certificati, che hanno un certificato di qualità europeo, i docchi, i GP e tutto quello che aiuta il consumatore a capire l'estrema qualità di questi vini. Sono numeri importantissimi per una nazione come l'Italia che sta continuando a crescere, credo che siamo lì con i francesi oramai per le esportazioni. Per quanto riguarda il Prosecco, nel 2013 è riuscito a superare in termini di produzione e di consumo il più importante vino al mondo, cioè il champagne, stiamo parlando di due vini molto diversi l'uno dall'altro, anche dal punto di vista del costo, è ovvio che se siamo riusciti a superare da un punto di vista della quantità, non siamo riusciti a superare da un punto di vista della reddittività, da un punto di vista economico. Però insomma già essere primi al mondo per quanto riguarda la produzione di vini con le bollicine credo sia un ottimo risultato. La Pedemontana mi è perso di capire, è una di quelle zone che non sfruttava al massimo tutte le potenzialità che potrebbe avere dal punto di vista turistico. bisogna sviluppare una cultura dell'accoglienza, le chiedo se è difficile acquisire questa mentalità. Ci vuole tempo, nel senso non è difficile ma c'è bisogno di un tempo sufficiente per far entrare nella testa dei cittadini che c'è bisogno di essere accoglienti e quindi dare la possibilità anche al benzinaio, al gestore del negozio di alimentari che se entra un turista deve essere trattato con le dovute maniere perché questo è un potenziale ambasciatore del nostro territorio quando ritorna a casa. Oltre al fatto che può ritornare lui stesso. Certamente. Noi cerchiamo di incentivare i nostri turisti a visitare queste terre perché ci sono tantissimi prodotti che possono essere acquistati direttamente nelle aziende di produzione e quindi può diventare anche un'ottima occasione perché questo turista quando torna a casa chiede a questo prodotto al proprio fornitore, al proprio ristoratore, al proprio negoziante. Quindi alimentiamo un mercato del prodotto locale in territori che altrimenti fare un'attività di promozione costerebbe molto molto e lo facciamo. Torniamo alla cartina perché rimanevano da vedere ancora alcune zone, abbiamo visto una molto ampia di colore giallo che è quella della pianura. È quella della pianura che rappresenta l'importantissimo tema della cultura e delle città d'arte del nostro territorio. Allora, devo dire che tutto il territorio veneto ha questa vocazione, quindi abbiamo riconosciuto a tutti i 580 comuni del Veneto questa vocazione di interesse culturale dal punto di vista turistico. perché ad esempio Feltre, per citare una città che comprende l'area delle Dolomiti, è un territorio sicuramente di montagna che è legato ai Dolomiti, ma nessuno può negare l'altissimo interesse dal punto di vista culturale e artistico. Bassano stesso si trova nella fascia della Pieda Montana, ma in dubbio l'interesse di città d'arte che Bassano ha sempre manifestato, o Marostica, o Asolo, o tantissime altre realtà. Quindi il riconoscimento di area a vocazione culturale dal punto di vista turistico è stato riconosciuto a tutti. Quella fascia gialla sono quei comuni che hanno solamente quel tipo di riconoscimento, mentre gli altri colori hanno questa sovrapposizione. Interesse dal punto di vista culturale, ma anche di altro genere, della Pieda Montana, della montagna... Pesagistico, diciamo. Poi abbiamo Venezia che fa storia a sé, con quella parte in viola, che ovviamente è una potenza turistica a sé stante. Abbiamo la foto... Un'altra isola viola, è Padova? No, adesso è il tema del termale. Abbano Monteglotto e le colline che lo circonda. Le terme di quella zona sono riconosciute a livello mondiale, hanno una loro stretta vocazione per quanto riguarda il loro prodotto turistico, quindi gli è stato riconosciuto questo ambito tematico, ben piccolino, ma come dire, esclusivo rispetto... E' un fortissimo richiamo anche verso l'estero, perché sente parlare poco italiano, certamente in certi periodi, perché è pieno di turistiche. Poi abbiamo la fascia azzura, che è quella delle nostre spiagge, quindi si parte da Bibione, all'estremo confine con il Frigli, si arriva alla parte, a confine con la provincia di Rovigo. Questa è una zona già molto sviluppata. Lì abbiamo il 35-40% delle presenze turistiche, soprattutto quelle presenze che rimangono per un certo periodo sul nostro territorio. Però anche lì bisogna fare i distinguo, nel senso che abbiamo fatto degli studi attraverso il CISAT, che è un organismo di proprietà della Regione del Vento e dell'Università Ca' Foscari di Venezia, con le quali siamo andati ad indagare qual è la ricaduta di vari tipi di turismo sul nostro territorio. Il risultato è che il turista che sceglie il mare e le nostre spiagge per le loro vacanze lascia al territorio circa 50-60 euro al giorno. Per quanto riguarda i turisti che invece scelgono le città d'arte, i territori interni e le nostre aree di maggiore interesse per quanto riguarda la pieta montana, lascia sul territorio una cifra attorno ai 120-130 euro al giorno. Quindi capite anche il diverso peso da un punto di vista economico del turismo. Abbiamo la fascia più assurda invece che rappresenta il parco del Delta del Po, che ha caratteristiche uniche, nel senso da un punto di vista naturalistico, da un punto di vista paesaggistico. Sappiamo che la laguna che gravita attorno ai fuggi del Po è straordinaria e per coloro che avevano la vacanza data veramente all'altura, all'aspetto naturalistico, lì trova grandi insulfazioni. Quindi come vedete abbiamo cercato di raccontare il Veneto in quei paesi, che non sono così conoscitori del territorio Veneto, le diverse tipologie dell'offerta turistica. Quindi diciamo che una persona che fosse interessata si può fermare in Veneto per parecchio tempo, una volta magari l'itinerario prevedeva Venezia, Firenze e Roma, mentre l'obiettivo è quello di mantenere il più a lungo possibile il visitatore. C'è questa informazione orizzontale sui vari tematismi e poi c'è un'informazione verticale per quanto riguarda i prodotti. I prodotti sono ad esempio il golf, il cicloturismo, può essere attività legate ad altri sport, ad altre passioni, che si sovrappongono e vengono resi integrati a quelli che è l'offerta del territorio. Ad esempio il golf che sembra uno sport così un po' elitario, un po' esclusivo, invece sta diventando una vera e propria opportunità da un punto di vista turistico. In Veneto ci sono circa 42 campi da golf che si sono resi disponibili anche ad ospitare dei turisti e questo fatto ha portato nel 2013 al Veneto di essere premiata dall'organizzazione mondiale che si occupa di turismo legato al golf come destinazione prima in tutto il mondo. La pressione del golf sposta centinaia di migliaia di turisti, soprattutto del nord Europa, dove magari il golf è uno sport più popolare rispetto al calcio e sono appassionati che si possono permettere anche di spendere qualche lira. Quindi noi offriamo i nostri campi da golf per gli appassionati e magari per la moglie che accompagna l'appassionato del golf offriamo questa nostra immensa vastità di prodotti anche legati all'alta moda che il nostro territorio offre. 100 anni fa nel 1914 scoppiava la prima guerra mondiale, c'è un fitto calendario di manifestazioni che riguarda naturalmente tutta Europa, qui il Veneto è un territorio importantissimo perché in Italia assieme al Friuli Venezia Giulia, al Trentino Alto Adige è quello dove si è combattuto e c'è una nuova genere di turismo se mi consente che è proprio quello legato ai luoghi della grande guerra. Su questo noi stiamo puntando molto, da qualche anno sta lavorando un comitato per la grande guerra che è composto da esperti, da studiosi ma anche da tantissime amministrazioni locali che interessa il territorio dove appunto questo tragico e grande evento ha causato tantissime vittime. Ci sono territori che magari sono anche sconosciuti, ad esempio pochissimi veneti conoscono che a cavallino tre porti, quindi nel veneziano esiste una batteria, batteria Amalfi con una fortificazione molto importante abbandonata a se stessa. Lì ci sono decine di migliaia di turisti che vanno in questo territorio a trascorre le loro vacanze ma non conoscono assolutamente questa realtà. Quindi quello che noi vogliamo portare a conoscenza è questa straordinaria storia che ha vissuto il nostro territorio in quel periodo, ma non raccontando come i classici termini triunfalistici con cui ci è stata raccontata questa vicenda a scuola, ma andando a raccontare le piccole storie quotidiane, le piccole cose che sono successe sul nostro territorio. Ci sono poi trattate tante trincee che sono rimaste. Ci sono percorsi e strutture straordinarie che sono state recuperate anche in buona parte in questi anni con delle leggi speciali che ci ha permesso di recuperare fortificazioni soprattutto nell'area del nostro altopiano di Asiago, ma anche del Grappa e delle aree di Mitrofe, che dovrebbe permetterci di essere molto ottimisti per quanto riguarda l'afflusso turistico in questo periodo. Solo per dare un dato, in quel periodo ci sono combattuti sulle nostre montagne eserciti di ben 22 nazioni diverse, addirittura ganesi. No, credo che tu lo sapessi nessuno di questa cosa. Immaginavo che nel 1915 ci fossero soldati ganesi sul nostro altopiano. Erano al seguito dell'esercito francese, visto che il Ghana era una colonia francese, e abbiamo testimonianze di queste provenienze, di questi soldati. Poi storie abbastanza particolari, ma se vuole poi... Tutte nazioni poi tra l'altro in cui presumibilmente ci saranno dei turisti che sono interessati a visitare questi luoghi. Poi ci sono anche quelle nicchie di interesse particolari. Immaginiamo che ci sono tantissime associazioni in Europa che seguono magari il fatto legato alle divise militari, o alle fortificazioni, o ai veri e propri episodi. Quindi noi cerchiamo di creare quell'interesse per le tante declinazioni che questo evento può aver causato come interesse e portarli in maniera precisa a conoscerli. Infatti con il Consorzio di Promozione Turistica del Topiano di Esiago siamo partiti con un progetto per formare delle guide. Perché il turista che arriva da qualsiasi parte del mondo deve avere qualcuno che li accompagni e li faccia conoscere la storia del nostro territorio in maniera molto puntuale e precisa. Quindi anche la creazione di nuovi posti di lavoro. Il turismo. Il Veneto in prima linea è la prima regione italiana per presenze turistiche. La regione impegnata, come abbiamo visto, in prima linea per la promozione del turismo. Spesso però a volte la stessa attenzione non c'è a livello nazionale. Se mi consente, è stato abolito anche l'assessorato al turismo. Però ci sono anche delle buone notizie che arrivano dall'Unione Europea. Sì, mettiamo un po' il dito nella piega purtroppo, tantissimi parlano dell'importanza strategica dello sviluppo del turismo in Italia per dare una seria risposta ai problemi di carattere economico e anche occupazionale. Però poi vediamo a livello nazionale non esserci nessun segnale da un punto di vista dell'interesse. C'era un ministero che era stato abolito attraverso un referendum qualche anno fa ma che poi ha continuato a sopravvivere, così come il ministero dell'agricoltura che è diventato il ministero delle politiche agricole. Abbiamo avuto anche ministri importanti. Ricordo ad esempio Rutelli, il ministro Brambilla, Gnudi, nell'ultimo governo Monti. e oggi questo di Castero in mano ha il ministro dei beni artistici, quindi ministro della cultura, Brai, che non sta dimostrando grandi interessi per il turismo. Non ci sono risorse, io non ricevo un centesimo dal ministero da anni, non ci sono idee e non c'è nemmeno coordinamento. Io da profondo storico federalista sono convinto che alcune attività devono essere fatte a livello statale ed alcune a livello locale. Ricordo che sul tema del turismo il turismo è una competenza esclusiva delle regioni ma un coordinamento sarebbe sicuramente utile. Esiste un ente, ente nazionale per il turismo, meglio conosciuto come Enit, che non riesce veramente a dare risposte. Pensate che questa struttura, magari chiamarlo carrozzone, è il termine più adatto. Ha un budget annuale di 20 milioni di Euro e ne costa 18 per rimanere in piedi. Quindi con 2 milioni di Euro, cosa vogliamo fare dal punto di vista della promozione del nostro territorio? De qualità invece non arriva niente qui. No, 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 assolutamente. L'Enit si propone alle regioni per accompagnarle a partecipare a delle fiere. Io ieri ero a Madrid a una fiera sul turismo e ho visitato lo stand dell'Enit e vi assicuro è una cosa penosa. C'erano dei padiglioni della Spagna e le sue regioni, la Catalonia, Andalusia, che erano veramente degli stand che attraevano l'interesse di tutti. È il nostro Enit lì con un padiglione veramente da poveri che non riusciva a cogliere l'attenzione di nessuno. A livello europeo invece c'è più attenzione? Potremmo invece rivolgerci verso Bruxelles, piuttosto che verso Rome. È un'attenzione nuova, un'attenzione recente. Devo dare atto che Antonio Tajani, vicepresidente della Commissione europea, è stato il primo a far emergere a livello europeo l'importanza del turismo, ha avviato tutta una serie di lobby positive sul tema del turismo e proprio in questi giorni finalmente si è riuscito a introdurre il turismo in un pacchetto di finanziamenti finalizzati allo sviluppo economico europeo pari a 100 miliardi di euro anche il tema del turismo. Questo devo dire è stato veramente un passaggio storico per quanto riguarda la politica europea. Io spero in questi nuovi sette anni di programmazione europea 2014-2020 che ci sia un spazio vero per il turismo perché ci permetterebbe veramente di mettere in atto delle azioni soprattutto strutturali perché al Veneto manca forse un'azione importante per quanto riguarda gli aiuti agli operatori a ristrutturare la propria offerta turistica. Abbiamo di hotel insomma non sempre all'altezza di quelle che sono le aspettative dei nostri turisti. Che sono sempre maggiori spesso perché chiaramente bisogna evolversi. Dei servizi nuovi, della capacità di dare sempre nuove esperienze a questi turisti. Ci sono delle innovazioni che se non vengono messe a disposizione del turista questo se ne scappa da qualche altra parte. Quindi un'inizione di risorse da un punto di vista strutturale sarebbe sicuramente un ottimo aiuto per il nostro territorio. Bene, il tempo a nostra disposizione purtroppo si è già concluso. Assessore, noi la ringraziamo di essere venuto ospite e soprattutto di averci fatto parlare in un periodo di crisi in cui purtroppo bisogna parlare di difficoltà economiche di aziende che chiudono invece di un comparto della nostra regione che gode di piena salute e che guarda al futuro con ottimismo. Buon lavoro, grazie a voi per averci seguito e buon proseguimento di giornata con i programmi di Rete Veneta. Arrivederci.